Arriviamo a Istanbul il 12 agosto Passeremo poi per Pamukkale e la sua vicina Afrodiasis Visiteremo Olimpos e la città di Khmer Finendo il viaggio a Goreme Visitando parte della Cappadocia Per poi ritornare il 26 agosto a Istanbul Iniziamo visitando Hagia Sophia Cioè la chiesa di Santa Sofia della Santa Sapienza È il monumento più importante di Istanbul La chiesa fu terminata nel 537 Ed era la chiesa più grandiosa di tutta la cristianità Ma nel 1453 Mahomet il conquistatore la fece trasformare in una moschea E tale rimase fino al 1935 Quando Ataturk la convertì in un museo Colonna su Dante Giro da sinistra a destra Bisogna esprimere un desiderio E' su un altro Visitiamo poi Sultanahmet Kami La moschea blu Caratterizzata da linee curve e sensuali Possiede ben 6 minareti E un cortile più vasto Di quello di qualsiasi altra moschia ottomana Il colore blu deriva dalle numerose maioliche Le quali si contano in diverse decine di migliaia Color blu Siamo alla moschea blu Nel frattempo mangiamo il primo kebab nel nostro viaggio in Turchia. I kebab turchi sono più economici di quelli europei ma contengono poca carne e di solito sono primi di salse. Passiamo poi nell'ippodromo che fu fulcro di Bisanzio per 1200 anni dove possiamo vedere anche l'ubelisco di Teodosio. Arriviamo alla cisterna basilica utilizzata per immagazzinare l'acqua del Gran Palazzo e gli altri edifici circostanti. Costruita nell'epoca di Bisanzio circa nel 532 da Giustiniano. La cisterna è alta 65 per 143 sostenuta da 336 colonne e conteneva quasi 80.000 metri cubi d'acqua. Ci dirigiamo ora verso il Palazzo Topkapi, residenza dei sultani ottomani per circa 400 anni. Ora è un museo ed è contenuto il vecchio tesoro dei sultani e anche il diamante Topkapi. Ma prima ci concediamo un tipico dolce turco, abbastanza dolce potrei dire. Diamo un'occhiata all'Arem, il posto in cui il sultano poteva abbandonarsi alla più totale dissolutezza. Arem significa letteralmente privato. Conteneva la moglie e le concubine, tutte quelle che il sovrano era in grado di avere. Alcuni sovrani ottomani ne ebbero fino a 300. Diciamo che ci si divertiva all'interno. visitiamo Cafferaga Madrenenzi, una vecchia scuola coranica dove incontreremo anche il nostro uomo che diventerà l'uomo della vacanza. Una bella tazza di zuppa, ciorba e un pane piatto chiamato pita, diciamo che abbastanza buono, seguito da un mulle benci in una mulle bellanceria. Come dolce ovviamente un meraviglioso ma soprattutto buonissimo bakavla. Bakavla, il dolce più tipico di tutta la Turchia. Una meraviglia con all'interno miele, noccioline, pistacchi e tutto quello che ci si può mettere. Dolcissimo. Un po' nascosta dai turisti, vicino al bazar delle spezie visitiamo Rustem Pasha Camus, una bellissima moschea ricoperta di maioliche blu. Il gran bazar, labirintico e caotico, gran mercato al coperto. Contiene più di 2000 negozi e bancarelle che ne fanno una parte staccata dal centro del cuore di Istanbul. Visitiamo Suleimani Camus, una maestosa moschea che incorona uno dei sette colli che dominano il corno d'oro, punto di riferimento di tutta Istanbul. È visibile da tutta la città. Il ponte di Galata e la bellissima torre di Galata, costruita dai genovesi. Un'occhiata veloce all'università di Istanbul per poi bere un salgam siup, sciroppo a base di rape bianche e aceto. Il famosissimo ayran, yogurt, acqua e sale. E la sera ci concediamo un balike kmek, un bel kebab turco a base di pesce. La bellissima piazza Taksim. E la sera partecipiamo ai festeggiamenti del Galata Sarai. Oh, 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 oh Il poverissimo quartiere vicino alla chiesa di Ciara. Ci spariamo anche un kebab rimpiangendo ovviamente i kebab di casa nostra, più grossi e più succulenti e poi visitiamo la bellissima chiesa, anzi moschea, di Eyup Sultan Kami Il carne d'ara Un po' distaccato dal cuore di Istanbul, al bar Pierrotti, godiamo di questa bellissima veduta sul comune d'aria Bella, poi non c'è nessuno, ci sono dentro tutte queste bare Non c'è delirio, non c'è delirio Non c'è delirio in questo caso Nel pomeriggio visitiamo il palazzo d'Almabace, residenza reale autocentesca e anche una delle mete preferite dai turisti Il minimalismo non era sicuramente la filosofia di vita del sultano Abdul Mechid il quale deciso di smentire le voci sul declino militare finanziario dell'impero ottomano per il solito trasferire la corte del palazzo Topkapi in un nuovo palazzo ancora più lussuoso sulle rive del Bosporo Il tempo di fumarsi un grandissimo cannone e siamo in partenza per Pammuccale maggior attrazione dell'anatoglio occidentale famosa per il caratteristico paesaggio formato da piattaforme di calcite incoronata dalle suntuose rovine di una città termale romana Pammuccale, conosciuto meglio come Castale di Cotone è un miraggio di una bellezza accecante Pammuccale, conosciuto meglio come Castale di Cotone e in cima a queste bellissime vasche di travertino possiamo vedere Ergapolis con il suo bellissimo teatro romano degna di nota anche la piscina termale dichiarata patrimonio dell'UNESCO una bellissima piscina dove si può nuotare con colonne romane in un'acqua riscaldata naturalmente a circa 35 gradi ci concediamo una pausa per ammirare questo meraviglioso tramonto ma la mattina del giorno seguente siamo già pronti per una gita fuori porta alle rovine di Afrodiesis Siamo a Afrodite, la città dell'amore questo è il tempio di Afrodite visitiamo bellissime rovine tra cui basiliche, terme e teatri ma il più bel teatro è sicuramente questo bellissimo teatro di marmo bianco con circa 7000 posti a sedere, un auditorium enorme alcune personalità avevano i posti riservati e il loro nome era inciso direttamente nel marmo e finalmente tra una lucertola e la rovina di un tempio arriviamo al punto più bello il meraviglioso stadio olimpico circa 270 metri di lunghezza è uno dei più grandi e nonché meglio conservati del mondo antico ospitava circa 30.000 posti a sedere prendiamo un pullman notturno diretto a Olimpos adesso vomito adesso vomito perfetto dopo un lunghissimo viaggio arriviamo finalmente a Olimpos soggiorneremo nel Kadirsky Rook Top uno stranissimo campeggio con le case sugli alberi finalmente riuscirò a dormire nelle bellissime case sugli alberi letto in camerata l'ingresso della nostra casa sull'albero non scherzo questa e finalmente si arriva al mare dove passeremo due bellissimi giorni sul caicco si esibisce in un tuffo vediamo che tuffo l'acqua azzurra e io morirò vedremo quale sarà il tuffo di Simone il tuffo in piedi eccolo 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 che sta per scivolare 3, 2, 1, ciao sei vivo? visitiamo posti meravigliosi tra cui questa baia dove usciva un fiume sotterraneo freddissimo addirittura di acqua dolce per la felicità del nostro amico Callegaris Supremilus arriviamo a Checova una bellissima isola a largo della costa dove si possono ammirare resti romani dispersi nel fondo dell'acqua tramite una barca che ha il fondo di vetro un'esperienza abbastanza insolita fortunatamente l'isola Checova offre ancora molti turisti tra cui un bellissimo castello romano situato sulla sommità dell'isola in un contesto di olivi centenari e resti di tombe romane ancora più suggestiva è la Pirate Caves una grandissima grotta formata dall'erosione del mare alla quale la nostra barca piace entrare quasi completamente peccato la musica del Titanic di sottofondo un po' inquietante grazie a un mare meraviglioso troviamo addirittura il tempo per rilassarci siamo il Callegaris Ridiculus in una versione una versione l'ultima che vedrete così nella mia vita c'è gente che mi inciampa addosso c'è gente che balla, balla da Dio si balla di brutto, siamo sul calipo giochi esinto giusto il tempo per fare l'ultima idiozia giornaliera creando bandiere turche con i sassi e ci troviamo finalmente alla Chimera siamo arrivati alla chimera da olympos due chilometri per cirali e altri 45 per qua abbiamo conosciuto due turchi pazzi siamo finalmente arrivati alla chimera ed ora presento il nostro protagonista il signor carl emetio c'è molto caldo la chimera un agglomerato di fiamme perenni che ruttano spontaneamente da alcune fessure del versante roccioso del monte olympus il luogo sembrava l'anticamera degli inferi e non è difficile capire il perché si riteneva che il fenomeno fosse dovuto al respiro di un mostro appunto la chimera in parte leone in parte capra in parte serpente che soffiava fuori di questo fuoco gian gian con le gare il suo cuore brucia d'amore ma che cazzo dice giusto il tempo di fare una foto qualche animale notturno salutare nostri nuovi amici prendere un bel imodium contro la cagetta con la coca cola turca e siamo pronti per entrare in cappadocia Dopo un lungo viaggio notturno arriviamo in Cappadocia, paesaggio lunare di una bellezza emozionante. Senza dubbi la regione che riserva più emozioni forti di tutta la Turchia. Letteralmente si chiama terra dei cavalli ed è un bellissimo luogo con una formazione morfologica quasi lunare, sicuramente un posto unico al mondo. Goreme, ottimo punto di partenza per visitare la Cappadocia. Un incantevole villaggio con una quantità di sentieri inesplorati, capace di mandare in visibilio anche il viaggiatore più consumato e farlo camminare per ore e ore e ore, senza mai stancarsi. Visitiamo il museo a cielo aperto di Goreme, un insieme di chiese, cappelle e con una storia i bizantini scavate direttamente dentro la roccia. A me piacciono molto quei pilastroni. Camini delle fate! Grazie a tutti! Grazie a tutti! e erodata da l'altra parte. La valle è 4, 70 metri. La valle è 160 metri. Non è così profondo. Ma inizia da Muglara. E a metà del cammino della valle troviamo anche il tempo di rifacellarci con diciamo una piedina locale. Molto buona. Perdiamo 10 minuti e quasi nasce un nuovo amore tra il Kalle e una famosa attrice turca, stata parecchie volte anche in Italia. E in un attimo ci ritroviamo alla Selime Cathedral. Un paesaggio abbastanza finare. Si sale da uno stretto sentiero e si arriva qua. Il quarto piano di questo imponente edificio monastero. è coperto di chiese, piccionaie, tunne scavati, gallerie, camere enormi che conducono ad altre mille corridoi gallerie. Un'opera architettonica incredibile che ha incuriosito anche il regista di Star Wars e ne ha copiato lo stile fabbricandone uno in Tunisia. Un'opera architettonica è un'opera architettonica. Siamo arrivati alla Selemin Cathedral, un posto unico, magnifico, un insieme di comignoli e un monte altissimo, vedete le persone in alto quanto sono piccole, piccoli, gallerie, montagnette, monastero, cappelle, chiese, tutto scolpito nella roccia dall'uomo, un signor che ha legale supremus, ciao che saluta, anche la gendarme indietro, sentite come sono simpatici i nostri amici turchi, molto molto bella, veramente suggestiva, ci sono 10 piani diversi da visitare, con cucine, chiese, piccionaie, corridoi, dispense, camere da letto, living room, molto molto bello, però adesso, visto che ci sono andate 20 minuti, andiamo e salutiamo il signor Calegari che sta a me, capiccio, gole gole gole, ciao 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 La mattina del giorno seguente ci ritroviamo su un pallone aerostatico, un'esperienza davvero da ricordare non la vecchio, che ci Alberti dovrebbe essere polone aerostatico, un'esperienza davvero un'esperienza davvero più pesante di essere davvero, perché sono un'esperienza davvero di essere davvero Grazie a tutti 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 Un'ultimo saluto della Turchia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti